Per le prossime ore nell'Aretino in Toscana la canicola potrebbe avere le ore contate. Secondo le previsioni di Trebimeteo il caldo record di questi giorni potrebbe diminuire. Nell'ultimo weekend in diverse città il caldo ha raggiunto valori record stagionali con picchi oltre 40 gradi in diverse località del centro nord. In Toscana il termometro ha raggiunto valori attorno i 38-39 gradi con picchi fino a 40 su valli e pianure interne del Fiorentino, Aretino e Senese. Nei prossimi giorni un endebolimento del campo di alta pressione determinerà un parziale e momentaneo smorzamento della canicola con caldo e lieve calo con valori che torneranno in linea con le medie stagionali. Nello specifico, prosegue l'esperto, ritroveremo condizioni in prevalenza soleggiate salvo maggior variabilità durante le ore centrali fino a giovedì con temporali alternati a pause soleggiate ed asciutte.